Qual è la situazione del settore bancario italiano? Le banche italiane si trovano a lavorare in un contesto non particolarmente favorevole, per due motivi. La crisi del debito pubblico italiano, che si sta, direi, non sta migliorando assolutamente, e la seconda è la prosecuzione della recessione economica che dura ormai da cinque anni. Per quanto riguarda il debito pubblico, dobbiamo ricordarci che le banche italiane sono tra i principali detentori dei titoli di Stato e per cui ne soffrono a variazione di prezzo, ma soprattutto interessi alti sui titoli di Stato significa che le banche sono costrette ad approvvigionarsi a caro prezzo per la loro raccolta, conseguentemente sono costrette a fare offerte di credito all'industria e alle famiglie a prezzi molto svantaggiosi rispetto a quelli delle altre banche in altri paesi. Per quanto riguarda il secondo motivo di preoccupazione della recessione economica, le banche sono tra i principali sostenitori dell'industria e quando l'industria va male, l'economia va male, significa per le banche un aumento dei crediti deteriorati e delle sofferenze. Siamo arrivati a livelli abbastanza preoccupanti e non si intravede all'orizzonte un miglioramento di questa situazione. E come si posiziona Banca Mediolanum in questo contesto? La principale preoccupazione della Banca Mediolanum in questi anni è stata la difesa, la salvaguardia dei risparmi dei propri clienti attraverso la diversificazione su tutti i mercati, su tutti i principali strumenti e su tutte le valute. Questo è avvenuto, la grande soddisfazione dei clienti ha contribuito ad aumentare le masse apportate dai clienti alla banca e conseguentemente anche ha permesso alla banca di raggiungere significativi e brillanti risultati economici.